Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi torno con la mia adorata Sara del canale Sara Cosmesi, a cui mando veramente un bacione grande grande, ti penso tanto, ti auguro di cuore che le cose vadano meglio e ti mando veramente un abbraccio fortissimo. Mi raccomando se non la conoscete ma ne dubito correte a vedere anche il suo video, vi lascio qui sotto il link al suo canale e al video gemello il mio. Oggi parliamo di quelli che sono stati i nostri prodotti preferiti del mese di novembre. Pazzesco, è già finito l'anno, a me non sembra non sembra possibile. Sono quelle frasi fatte però veramente quest'anno è stato pazzesco, mi sembra veramente ieri che ho scoperto di essere incinta, invece la mia bimba ha già fatto tre mesi, il tempo è volato. Ma non perdiamoci in ciance, se questo video vi piace lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti i prossimi video e partiamo subito con i prodotti preferiti del mese di novembre. Partiamo subito con uno dei miei prodotti preferiti della vita in verità, ve ne ho già parlato in video vecchi, è un prodotto che conosco da tantissimi anni che nel tempo ho acquistato spesso, spesso l'ho acquistato almeno tre volte ed è uno dei migliori detergenti viso che io abbia mai provato. È un prodotto costoso, sì, e secondo me i detergenti viso non sono esattamente uno dei prodotti su cui investire di più perché comunque un prodotto che va sciacquato via e quindi sta talmente poco a contatto con la nostra pelle che non ha tutto questo senso che si spendano tanti soldi, a mio parere almeno, ma questo devo dire che è veramente una coccola pazzesca. Si tratta di questo gel detergente di oschia ed è il Renaissance Cleansing Gel Illuminating Vitamin Facial Cleanser, quindi un detergente viso illuminante alle vitamine. Questo è veramente una favola, contiene vitamina A, C, E, omega 6, enzimi di zucca, camomilla e rosa, veramente degli estratti pazzeschi. La zucca contiene gli enzimi che secondo me sono veramente super efficaci a livello di esfoliazione del viso. Mi viene in mente uno degli altri miei prodotti preferiti della vita che è la maschera agli enzimi di zucca appunto di Peter Thomas Roth, di cui vi ho parlato spesso, anche quella è favolosa. Comunque adesso questo prodotto l'avevo accantonato, l'avevo tirato fuori a primavera, poi l'avevo messo da parte per l'estate, adesso l'ho rimesso in uso ed è veramente una favola. È questo gel meraviglioso in questa confezione, mi piace da matti, erogatore dispenser fatto in questo modo, non si spreca prodotto e superigenico ed è un gel detergente quasi abbastanza corposo che va applicato su pelle asciutta, vi va a detergere il viso e a lasciare il viso ben deterso, illuminato, splendente, in maniera pazzesca. A contatto con l'acqua poi diventa un latte, qua sembra quasi un olietto e a contatto con l'acqua appunto diventa un latte praticamente. Per me questa è una coccola del mattino ma è ottimo da utilizzare anche la sera assolutamente. Il profumo molto delicato, piacevole, fiorito, predominante è la profumazione di rosa. Se vi va di spendere qualche soldino in più per un detergente, questo è veramente favoloso. Lo trovate su Pal Beauty, lo trovate su Look Fantastic, non so se si trovi su Amazon ma non credo, comunque su quei due siti lo trovate di sicuro. Meraviglioso, meraviglioso per il mio tipo di pelle che è comunque una pelle mista grassa, meraviglioso su una pelle normale, una pelle secca, anche sensibile perché è estremamente delicato contenendo appunto anche camomilla e rosa. Favoloso e vero stra stra mega consiglio. Questo ripeto è un prodotto storico per me, l'ho acquistato per la prima volta diversi anni fa, me ne sono subito innamorata, l'ho anche riacquistato appunto almeno tre volte, quindi ripeto non posso che consigliarvelo. Un altro prodottino che avevo già in uso ma che non mi piaceva più di tanto, però ho trovato un altro modo per utilizzarlo e così mi è piaciuto un casino. È un prodotto di Fresh ed è lo Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash, uno scrap detergente allo zucchero e fragola che non avevo ben capito nel senso, a parte la profumazione di fragola non la sento, io sento la profumazione dei dolcetti quelli alla Coca Cola, ecco per capirci. Ed era uno scrap, sì, che mi piaceva, siccome è uno scrap abbastanza pastoso, lo andavo ad utilizzare su pelle asciutta e poi risciacquato, però comunque non ci vedevo questo grande effetto, non mi piaceva, la consistenza mi infastidiva, volevo smaltirlo e quindi l'ho messo sotto la doccia per utilizzarlo sempre sul viso, ma per fare uno scrap sotto la doccia che sono già lì e faccio tutto insieme, insomma ho detto vabbè, lo smaltisco così e lì con pelle già bagnata, massaggiato bene sulle mani, col vapore della doccia e tutto applicato sul viso e lasciato qualche minuto lì, mentre magari mi è piaciuto molto di più, ho avuto veramente più un riscontro molto più positivo, mi è andato a esfoliare bene la pelle ma in maniera delicata, non mi lasciava la pelle arrossata pur facendo uno scrap sotto la doccia che magari può essere un pochino aggressivo e invece assolutamente non mi è piaciuto tanto, ho lasciato anche in posa qualche paio di minuti insomma, ho visto veramente la pelle più bella, più luminosa, più liscia, così mi è veramente piaciuto e era un prodotto che non vedevo l'ora di smaltire e invece mi è dispiaciuto averlo terminato, quindi potrebbe anche essere un prodotto che vado a riacquistare, fresh, adesso è disponibile da Sephora, insomma lo trovate buono, veramente alla fine mi è piaciuto. Poi due sieri viso che sto adorando in questo periodo, che ho utilizzato da poco però veramente me ne sono già innamorata, uno è il nuovo siero viso di Garnier, questo ha l'acido ialuronico e aloe, ottimo per andare a fare un effetto più polposo, pelle più luminosa, più idratata, un aspetto più sano diciamo, soprattutto un effetto più polposo ecco che mi piace moltissimo. questo veramente mi piace tanto, al momento si trova solo su Amazon, non l'ho visto disponibile in grande distribuzione, magari arriverà presto, veramente un bellissimo siero, così come mi piace molto anche questo, ialuronic boost serum di Beauty Glam, brand di cui vi ho già parlato, che io trovo al Müller quando vado in Austria, adesso è parecchio appunto che non ci vado, appunto Beauty Glam dovrebbe essere un brand rivenduto dal Müller, quindi non lo trovate in Italia, però se avete occasione di andare appunto a Austria, Slovenia, Germania, paesi dell'est e vi capita di visitare un Müller, questo è un brand che mi piace molto in generale, ho provato un sacco di cose e mi piacciono tantissimo e questo siero viso l'acido ialuronico mi lascia la pelle anche questo polposissima, bella, rassodata, idratata, molto molto bello, qua dice appunto idratazione intensa e pelle polposa, veramente bello 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 questo siero, belli entrambi, come vi dicevo avendo una bimba piccola a casa dormo poco, sono parecchio stanca, quindi ho la pelle sempre un po' tirata e stanca e questi due mi aiutano ad avere un aspetto più sano, non avere la pelle troppo stanca insomma, veramente molto molto carini entrambi, mi piacciono un sacco, altro grande amore del mese di novembre ma questo è un ritorno perché è un prodotto che ho già provato che sapevo già che mi piaceva ma l'ho riacquistato di recente, è il multifunction formula snail repair eye cream di Mizone, un contorno occhi meraviglioso, fatto così questa bellissima cremina con la sua spatolina per evitare appunto di andare a insozzarci le dita dentro, molto molto bello, molto igienico, bellissimo questo contorno occhi idratante, come vi dico sempre io non ho un contorno occhi secco, particolarmente segnato, non soffro di borse come vi dico appunto è un contorno occhi stanco dal periodo e sì un pochino segnato però appunto dalla stanchezza un po' di occhiaie, questo comunque mi dà un'ottima idratazione, mi lascia il contorno occhi più fresco, un aspetto più riposato, è proprio un effetto immediato, ripeto non ho bisogno di grandissima idratazione però ho bisogno di far apparire il mio contorno occhi un po' al meglio e questo veramente mi aiuta tantissimo, ripeto un prodotto che già conoscevo, che già sapevo che mi piaceva, in questo periodo lo apprezzo ancora di più perché mi aiuta a far apparire meno la stanchezza sul mio viso, molto buono ve lo consiglio tantissimo e due scoperte molto carine di questo periodo sono queste due mascherine di balea della nuova linea uscita proprio al mese scorso, la linea it's always me time e sono due mascherine all'acido ialuronico, questa è con anche estratto di tè bianco e mentre questa con estratto di curcuma, sono due mascherine di balea che mi piacciono, sapete che ho sempre problemi con le maschere in tessuto di balea, però queste mi sono piaciute, il tessuto è bello aderente, sta bene sul viso, ben imbevuto, l'effetto dell'acido ialuronico è subito evidente perché appunto mi lascia la pelle subito più polposa, più fresca e mi sono piaciute tanto, ne ho prese mi pare 2-3 di scorta e ho fatto bene perché appunto sono molto carine sono una limited edition del periodo, quindi mi raccomando se le avvistate provatele perché sono veramente veramente molto carine io ve le consiglio grande amore del periodo è anche questo shampoo di L'Epetit Marsilier questo qua è uno shampoo micellare con 4 oli essenziali e cedro, dunque continuo rosmarino, limone e camomilla ed appunto è staratto di cedro, bellissimo per capelli che tendono a ingrassarsi, questo è meraviglioso perché ha comunque questa perfumazione fresca non prettamente estiva perché è piacevole anche in questo periodo, non fa un effetto freddo sulla testa, fa un effetto proprio bello rinfrescante vi lascia i capelli, questo è appunto indicato per capelli grassi, vi lascia i capelli belli, puliti, lucidi inizialmente pensavo che andasse a sgrassarmi un po' troppo il capello, invece no, ovviamente dopo va applicato un balsamo io ci applico subito una maschera, però mi lascia i capelli belli puliti per un paio di giorni, ovviamente io non mi aspetto miracoli perché appunto so che ho la cute che tende a ingrassarsi, quindi pazienza però quei due giorni veramente il capello è perfetto, bello, lucido, rinfrescato, veramente mi piace un sacco questo è uno shampoo che io trovo solo su Amazon, lunedì uscirà un video sui miei prodotti top e miei acquisti top su Amazon di cui vi parlerò anche di questo, vi lascio comunque sotto qua nell'info box il link al prodotto se vi può interessare e vi lascio anche il link a tutti gli altri prodotti come sempre comunque consigliatissimo appunto per capelli grassi poi due prodotti che sto adorando sotto la doccia uno è di Sien ed è lo shower cream al profumo di gersumino meraviglioso, adoro il shower cream di Lidl di Sien che appunto troviamo da Lidl sono proprio belli cremosi, corposi, vi lasciano la pelle bella idratata, morbida, profumata in più questo ha il profumo di gersumino che è uno dei miei profumi preferiti soprattutto sotto la doccia perché proprio è una profumazione buona, fiorita di pulito, veramente favolosa vi sa proprio di pulizia c'erano altre due versioni che ho provato, che mi sono piaciute comunque e non so se si trova ancora però mi pare che ogni tanto lo facciano riuscire se ne avete l'occasione prendetelo perché costa pochissimo il prodotto meraviglioso, cremoso, veramente piacevolissimo da utilizzare sotto la doccia e un altro prodottino che non pensavo mi piacesse invece l'ho adorato è questo bagno doccia di bottega verde alla profumazione di vaniglia nera io non sono per le profumazioni così dolci quasi un po' stucchevole ma questo ha una profumazione meravigliosa di vaniglia proprio un profumo caldo, meraviglioso ideale per questa stagione in cui fa freddo è proprio il momento della doccia vi sa proprio di un momento da spa con un profumo dolce quindi non tipicamente erboso un profumo sicuramente molto dolce ma non so come dirvi non stucchevole caldo, non saprei come altro definirlo buonissimo questa è una linea abbastanza vecchia tra l'altro questo è un prodotto che non avevo neanche acquistato me l'avevano omaggiato con un ordine e non pensavo neanche di utilizzarlo perché l'avevano usato detto sì ma troppo dolce so che non apprezzo queste profumazioni invece sotto la doccia va un po' a stemperarsi la profumazione e vi lascia solo questa sensazione di una coccola calore di una candela accesa veramente meraviglioso se ne avete l'occasione provatelo soprattutto per questa stagione è l'ideale non sono sicurissima cioè dovrebbe essere in linea permanente questo però provo a verificare vi lascio il link qui sotto nel caso veramente provatelo meraviglioso se poi siete amanti di profumazioni dolci veramente andate a nozze con questo un prodotto di cui mi sono innamorata all'istante proprio al primo utilizzo è un prodotto che ho preso un po' per caso e di cui veramente mi sono innamorata pazzamente è questo olio corpo di Biopoint ed è il Luxury Oil Nutriente Rigenerante con oli di argan, sesamo e mandorle qua dice nutre all'istante protegge e rigenera la pelle apportando benessere immediato questo vi fa la pelle come seta una meraviglia ha un profumo che si sente anche con la confezione chiusa la profumazione è veramente dolce ma non stucchevole sa di pulito ha un profumo di argan veramente da favola che mi fa impazzire l'ho preso senza grandi aspettative ma mi sono innamorata follemente buonissimo mi lascia la pelle veramente setosa morbida con questo buonissimo profumo quasi non si ha bisogno di applicarci la crema dopo tra l'altro è un olietto che lo vedete è abbastanza liquido quindi applicato sotto la doccia vi sembra un po' una cagata perché dite vabbè va via come niente invece vi lascia la pelle veramente come seta una meraviglia io questo l'ho trovato al tulipano mi pare ma si trova comunque tranquillamente anche online e penso anche in grande distribuzione non saprei perché era un olietto che non avevo mai considerato per te la verità validissimo provatelo assolutamente se vi piace questo genere appunto la profumazione soprattutto di Argane è veramente favolosa consigliatissimo ho proprio pelle setosa veramente pazzesca termino infine con un prodottino molto semplice ma che mi sta aiutando tantissimo in questo periodo è di Balea ed è la crema mani all'urea io amo questa linea all'urea di Balea ho provato anche la crema per i piedi ottima una bella crema ovviamente contiene contenendo l'urea qua contiene il 5% vi lascia veramente la pelle più morbida io l'ho utilizzata sui piedi e la crema per i piedi questa è sulle mani ma insomma è la stessa crema alla fine è consigliatissima soprattutto adesso per il periodo col freddo le mani cominciano un po' a spaccarsi poi da me l'acqua è sempre più calcarea e io praticamente avendo la bimba tendo a lavarmi spessissimo le mani con lei e quindi ho le mani molto secche molto aride questa è una cremina che invece mi sta aiutando tantissimo a mantenerle morbide e idratate veramente senza questa avrei le maniche le mani come carta pesta poi ovviamente vi mostro questa che ho di Balea ma le creme mani all'urea sono sempre meravigliose ne ho provate diverse negli anni mi piacciono tutte sono prodotti ovviamente sono prodotti tra l'altro consigliati anche per le persone che soffrono di diabete è molto buono appunto mi sta aiutando tantissimo ultimo prodotto che vi mostro è un prodotto diverso dagli altri ed è di Lala Lab questo prodotto mi è stato offerto da Lala Lab è un sito che ha anche la sua applicazione che vi consiglio tantissimo perché se siete amanti di foto stampe, calendari fotolibri eccetera e con questo grazie a loro ho avuto modo di scaricare ho avuto modo di stampare diverse foto con la mia piccolina e mi hanno appunto omaggiato di questa stampa di 50 foto che appunto ne ho fatte diverse avevo fatto diverse foto con il telefono così ho avuto modo di stamparle e e voglio appunto farmi alcuni alcuni album di ricordi appunto di foto con lei se vi fa piacere tra l'altro qui sotto in infobox vi lascio anche il codice sconto del 20% per usufruire appunto di eventuali stampe fotolibri appunto potete utilizzarlo su qualsiasi prodotto e vi lascio qui sotto tutti i link e il codice sconto bene miei cari questi erano tutti i miei prodotti preferiti nel mese di novembre mi raccomando correte a vedere anche il video di Sara Sara ti mando un bacione grande noi ci vediamo al prossimo video che sarà lunedì e sarà il video sui prodotti sugli acquisti top di Amazon mi raccomando è un video lunghissimo quindi se vi interessa l'argomento non perdetevelo io vi saluto vi mando un bacione grande e noi ci vediamo al prossimo video ciao